Su Spettacolo Mania, Prisca Civitenga, microfono d'oro per la radio ovviamente, cronaca, ma sappiamo che c'è molto molto di più. Beh sì, diciamo che questo è un po' un premio alla carriera, hanno voluto darmi dopo tanti anni insomma in una grande emittente, tante altre collaborazioni in questo periodo da freelance e sì, ho seguito la cronaca ma ormai da più di vent'anni qui su Roma e sono veramente onoratissima di essere qui in Campidoglio nel cuore della mia città per un premio insomma che è dedicato al mio lavoro ma anche alla mia grande passione, a quello che sono nella vita, lavorare con la voce mi piace moltissimo, raccontare storie ed esperienze altrui mi piace moltissimo, anche le mie ma insomma sono più cronista che narratrice. Senti che cosa ci vuole per vincere un premio con la radio? Che cosa bisogna fare per essere bravi in radio? Vabbè dirò le cose banali, però ci vuole tenacia, professionalità, darsi, passione, perché è un lavoro comunque anche difficile, non è un lavoro facile, devi essere sempre attivo non solo con il cervello ma anche con la voce, con lo spirito, con insomma il carattere e quindi per vincere un premio non lo so, però per lavorare in radio ci vuole tanta tenacia e tanta passione. Grazie Pesca, ancora congratulazioni. Grazie, ciao, ciao spettacolomania.